Per ora si danno per acclarate le comunicazioni fornite dalla Giunta regionale e dai vertici di Anasi Calabria lo scorso 22 settembre, quando nella sede della cittadella regionale, è stato assicurato ai sindaci della Locride e della Piana che la temuta chiusura totale per due anni della Galleria della Limena sulla strada di grande comunicazione in ogni terreno non ci sarà e che si procederà con interventi mirati di manutenzione straordinaria dopo le necessarie e preventive opere di drenaggio delle acque che scolano all'interno del tunnel che saranno eseguiti solo in orari notturni consentendo durante la chiusura solo il transito dei mezzi di soccorso e a partire dall'anno nuovo. Ad estare un minimo di preoccupazione nei primi cittadini però è il fatto che non abbiamo tutt'oggi avuto notizia dal Ministero delle Infrastrutture il cui placet alla rimodulazione del progetto. è stato decisivo per ratificare l'accordo presso con l'ANAS ed ad annunciare lo stanziamento di nuove risorse per avviare la progettazione del raddoppio della canna, ovvero il traforo di oltre 3 km che collega Locride e Piana sui tempi certi di inizio dei lavori. Un tema questo che è stato velocemente trattato a margine dall'Assemblea Nazionale del Lanci tenutasi a Genova dal 24 al 26 ottobre in cui la folta delegazione di sindaci Locridei ha incontrato il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il suo staff ricevendo rassicurazioni sulla convocazione di un incontro nella sede romana di Via Novantana per discutere di queste e altre tematiche in agenda. Oltre alla questione riguardanti i lavori da compiere sui trafori torbido e limina della Iogni Terreno e da tempo in campo la progettazione necessaria al completamento del tratto reggino della nuova statale 106 in un momento in cui nella Calabria centro-settentrionale sono stati avviati i lavori nei segmenti mancanti, era stato lo stesso Salvini intervenuto in videoconferenza a un incontro con gli amministratori Locridei tenutasi a Locridei lo scorso 12 aprile a promettere che prima dell'estate il governo avrebbe provveduto a ripartire le risorse necessarie e che avrebbe convocato i sindaci a Roma per mostrare loro i progressi fatti nella progettazione del tratto reggino dell'anteria ionica.